Qui in Inghilterra i giocatori vengono pagati a settimana e appunto si trasferirà alla fine delle visite mediche. Sembrava esserci stato qualche difficoltà tra società, ma dopo aver animato gli accordi... A proposito di soldi, se può essere più precisa, voi avete convissuto 7-8 anni Ecco, su quali... La principessa Ho una passione, a me piacciono gli uccelli Siete proprio, ma proprio cafuni E ornitologa No Ah A me piacciono proprio gli uccelli E li fotografo tutti Una strana fotografia Lei è mai andato a Troina? A Troina? A Troione sono andato! Mica a Troina! Un nuovo eroe Ora ti mangio, ti mangio, ti mangio, ti mangio, ti mangio, ti... Majinbu, affame No 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 Grazie a tutti.